Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Uuuuuhhhh! Uuuuuhhh! Il Pinto! Un'era Alexander Macicca contro l'Aposte Unale è stata iniziale a Pinto! Uuuuh! 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 ho visto no 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 Sfiorato a titolo junior, adesso della clara di grandi, vedete lo scuro, grandi cose, Sfiorato a titolo junior, adesso della clara di grandi, vedete lo scuro, Sfiorato a titolo junior, adesso della clara di grandi, vedete lo scuro, Sfiorato a titolo junior, adesso della clara di grandi, vedete lo scuro, Sfiorato a titolo junior, adesso della clara di grandi, vedete lo scuro, Sfiorato a titolo junior, adesso della clara di grandi, vedete lo scuro, Aspetta perché resta mia pietraia e andare poi sul puote. Sì, siamo arrivati a noi, attorno a noi, attorno a noi, attorno a noi! Sì, è tipo giro d'ora, non è un giro d'ora! ...dicato per vedere uno scontro tra me e Francesca, perché Francesca purtroppo viene qua! ...dicato per vedere uno scontro tra me e Francesca, perché Francesca purtroppo veniva! ...dicato per Fortalezza ... ... No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.